Eccoci qui, sembra che la zona si è sorvegliata. Selezione naturale. Sargenti, perché sei così steccato? Ho forse fatto qualcosa per rinforzarti? Basta con la messa in scena, pezzo di merda. Credi di potermi fregare così? Credo ti avessero già fatto. Ti piacerebbe? Pensi di avermi fregato, eh? Lo dici tu. Tranquillo che tra poco ti mangio. Mangialo, mangialo, mangialo. Non so di questo per uccidermi, dottore. No, ho sbagliato. Preso. Prendi l'altro. Questi cretini cadono come mosche, ma poveri. Muori. Quanto è bello lanciare un razzo e prendere un dritto qua in faccia il soldato. Trova, la faccio licenziare. C'è il rinazzo, dottore. Le sue coordinate sono top secret. Certo. Finché non vengono a lanciarti. Penso che essere licenziato sia l'ultimo dei suoi problemi. Il bersaglio ci ha strappato via in tow. Il bersaglio ci ha strappato via in tow. Porca troia. Eh, lo so. Preso. Distrutto. Comandante, non osi lasciarsi di volare. Già fatto, mi spiace. Ed è stato più semplice di quanto pensavi. Dottor Koenig, mi riceve? Che c'è, comandante? Red Crown ha stabilito il suo rifugio d'emergenza se qualcosa andasse storto con ella. Verrà portato alla base. Con della sicurezza aggiuntiva, spero. Dovrà discuterne con il colonnello russo. Ovviamente. No! Prendilo! Ecco qua. Mi stava solo antipatico per quello l'ho preso. E ora fuggiamo. Come dicevano i saggi, fuggi da Foggia, non per Foggia, ma per i Foggiani. Preso. Peccato non aver preso il lanciarazzi. Attenzione a tutto il personale militare. Blindate questo posto fino all'ultimo centimetro. Aha. Vediamo se riesco a stanare quello stronzo da questo buco. Esatto. Vediamo se riesco a fare qualcosa di fastidioso. No, in questo gioco non posso salire sui... Oh, che peccato. Presa! Aspetta che ci penso io! Basta con questo tentativo pietoso, Heller. Cerca di conservare un briciolo di dignità. Mazzito. Ecco fatto. Tu invece dovresti... Cercare di mantenere vivo qualche soldato, sai? Credo che abbiano delle famiglie queste persone. Anche se... A te non penso che... Frega assolutamente nulla, vero? Ecco qua. Kaboom. Aspetta. Tu per caso c'hai... No? Peccato, speravo che... No, dai che forse quel carro armato... No, non ce li hai... Dammi... Quei lanciarazzi. Ecco fatto. Mancato. Kaboom. Ecco qui. Ne manca... Solo uno. Vieni qui che c'ho fame. Aspetta. Ecco qua. Quanto è soddisfacente... Prendersela... Con i nemici normali. No, ho sbagliato. Ecco fatto. Tutto risolto. Dovrei pure uscire da lì, eh. Come fai a essere così lento? Quello è un vecchio. E tu sei un mutante. Non dobbiamo evacuare. Idiota. Credi che io abbia chiesto un vericottero da guerra per gioco? Attacca LR! Come vuoi tu. Ehi, che stai facendo lassù? Miglioro i tuoi sistemi di difesa. Tu pilota l'elicottero. Io credo che non si sia reso conto delle mie possibilità, sto cretino, eh. Sopra caricato armi e sistemi di navigazione. Dov'è? Parali, idiota! Vieni qua. Orca droia. Allora, ho bisogno... ...di mangiare qualcuno. Ho sbagliato, va bene, non importa. Porca miseria. Allora, calmi un attimo. Stiamo un attimo al sicuro. Non ci ho ancora visti. Beccati questo. Arca miseria. Preso. Come hai fatto a precipitare che ci aveva ancora tanto così di vita? Spero sia ancora vivo, comunque. È ancora vivo. Ehi, Cunning. Sei pronto ad essere assimilato? Cosa ha fatto? Ma che diavolo? Che cosa sei? Oh. Ah. Si è iniettato da solo le cose, eh. Io gli proverò che si sbaglia su di te. E quando lui scoprirà che tu sei difettoso, io sarò lì a vederti morire. Che lo dici di fare a botte, allora? Facciamo a botte, dai. Una scazzuttata veschio stile. Arribi pure finché puoi. Ho sbagliato. Perché non mi... Perché non me lo seleziona? Allora, tutti te i muscolini mi ti appesantisco. Vedrai quando saranno inutili quando ti strapperò la testa. Non riesco a... Perché non me lo seleziona? Vabbè, guarda, allora, aspetta. Fammi mangiare prima. Non mi stai dentro? Siamo un po' fuori forma, eh? Risparmi il piatto, ti servirà per urlare. Dammi! Dai! Cosa speri di riuscire a provare? Non voglio provare un vecchio. Sei solo un vecchio. Ecco cosa voglio provare. Magnetra! Ho bisogno di qualcosa di un po' più... nutriente, però. Non, gente. Volai ground. Non puoi farci niente. Porca puttana. Potrei correre tutto il giorno, Kroenig. Stai solo guadagnando te. Ho bisogno di mangiare. Potrei condurti in una trattola. Ci penserò dopo averti picchiato a morte, Kroenig. È scappato il bastardo? Stai solo guadagnando. Vuoi una notte all'ultimo sangue? Zitto, vecchio. Io ballerò sul tuo cadavere. Piagnone del cazzo. Cosa sta facendo? Assorbilo, assorbilo. Oh, finalmente. Vuoi che mi metta a sopplicarti? Voglio che tu stia zitto in me. No, voglio prendermi il tuo potere. Altro che... Devo dire, dottor Merser, che reclutare gli evoluti tra i ranghi della Gentec è stata una mossa geniale. Scaleremo la loro struttura gerarchica. Sabrina Gunnway è già in linea come amministratrice. Nel caso, segui il suo esempio, Kroenig. Dovrete essere tutti pronti per fare ciò che occorre nella zona verde. Eh, come no. Ciao, Merser. Kroenig mi serviva e tu l'hai fatto fuori come una mosca. Beh, forse avresti dovuto dirmelo che c'erano altri di noi in circolazione per non parlare di un fottuto scienziato pazzo da legare. Beh, ora lo sai. Siamo nella Gentec. Siamo nella Blackwatch. Siamo dappertutto. Abbiamo occhi e orecchie ovunque. Stai creando un esercito. E quando saremo abbastanza tu e io guideremo un attacco che spazzerà via la Blackwatch e la Gentec dalla faccia della Terra. È il virus. Cosa? Il virus sparirà. Giusto? Tutto. Fa parte del piano. Eh, come no. Diglielo che non ti fidi. Non manca molto. Teneti pronto. Fottuto bugiardo. Ecco appunto. Padre. Passa a trovarmi nella zona verde. A te è una brutta notizia per noi. Anch'io. Mercer ci sta prendendo per il culo. Sta tramando qualcosa. James. Non sai quanto sia vero. Sto arrivando. Non c'era tanto da da immaginarselo, eh. Quindi? Nuovo potere? No? No. 30.000 punti però sono un bel po', eh. Che palle. Speravo, sai. Hai assorbito un tizio stronzo. Almeno un potere nuovo me lo potevi dare. Onestamente ci speravo. Vabbè. Mi accontenterò mangiando qualcuno qua. Posso aprirlo? Posso aprirlo? E tanto nessuno farà domande, quindi. Ecco fatto. Mi accontenterò di questo. Sono punti extra comunque. Cos'è? Cos'è? Squadra attacco distrutta. Fantastico. Cos'è? 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 Autore dei sorrisi